CINESI 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 Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Due immobiliaristi pratesi hanno ricevuto in contanti a nero oltre 5 milioni di euro di buone entrate per affittare i loro capannoni a titolari di pronto moda cinesi. L'inchiesta della Guardia di Finanza fa luce su una nuova forma di connivenze che alimentano il sistema di legalità nel distretto. La coppia di coniugi indagati ha già fatto ammissioni e pagato al fisco 2 milioni di euro a titolo di imposte sulle somme indebitamente percepite. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Una coppia di immobiliaristi pratesi, marito e moglie, si è fatta consegnare in contanti e a nero 5,2 milioni di euro dal 2017 al 2022 da parte di imprenditori cinesi desiderosi di prendere in affitto i capannoni più in vista nella zona di Yolo e Tavola, divenute punto di riferimento di mezza Europa per il commercio di capi di abbigliamento. Lo ha accertato la Guardia di Finanza di Prato che partendo da una prima denuncia di un titolare cinese di pronto moda a gennaio 2022 ha esteso le indagini scoprendo che non si trattava di un caso isolato. Nel corso dell'inchiesta i coniugi immobiliaristi, indagati per estorsione e dichiarazione infedele al fisco, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, misura poi sostituita dal GIP con quella del divieto di avvicinamento alle parti lese dopo che nel corso degli interrogatori di garanzia gli indagati hanno ammesso le proprie responsabilità circa le buone entrate percepite. Gli immobiliaristi hanno inoltre già provveduto al versamento all'Agenzia delle Entrate di 2 milioni di euro, ovvero l'equivalente delle imposte relative alle somme indebitamente percepite fino al 2019. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata all'inizio del 2022 da un imprenditore titolare di un pronto moda, il quale è stato sfrattato dal capannone preso in affitto perché aveva saldato in ritardo tre mesi di locazione, nonostante il pagamento, prima della stipula del contratto, di una buona entrata di 400 mila euro in contanti e a nero. Nei guai, oltre ai due coniugi titolari della società immobiliare proprietaria dei capannoni, sono finiti anche due agenti immobiliari, anch'essi pratesi, accusati di estorsione in concorso tra loro. Il compito degli agenti immobiliari era quello di riscuotere le buone entrate a nero, senza le quali il contratto di locazione non si sarebbe perfezionato. La prefettura ha chiesto al Ministero dell'Interno il ritorno dei militari a Prato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. La decisione arriva a seguito del monitoraggio sui trend della criminalità diffusa svolta in sede di Comitato per l'Ordine Pubblico. Soltanto per le rapine c'è aumento, spiega il prefetto Adriana Cogode, ma si tiene conto del percepito senso di pericolo per la sicurezza da parte della cittadinanza. Sentite. È partita ufficialmente la richiesta al Ministero dell'Interno di inviare a Prato i militari dell'esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Lo conferma la prefettura di Prato, dopo che ieri, ai nostri microfoni, la parlamentare di Forza Italia, Erika Mazzetti, aveva ribadito la propria posizione e si era detta fiduciosa sul fatto che l'attuale governo Meloni, dopo l'esperienza conclusasi nel febbraio 2019, possa inviare nuovamente i militari con compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, in primis la stazione centrale e quella del Serraglio. Il prefetto Adriana Cogode, che già nel febbraio 2022, parlando nel corso dell'audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'accordo di Schengen, si era riservata di scrivere una nota al Ministero chiedendo il ritorno dei militari, ha presentato formale richiesta nei giorni scorsi, dopo il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di martedì scorso, che ha compiuto un monitoraggio sui trend della criminalità diffusa a Prato. Pur considerando che soltanto per le rapine viene registrato un aumento rispetto agli anni precedenti e tenuto conto di un percepito senso di pericolo per la sicurezza da parte della cittadinanza, si è convenuto di richiedere la presenza di militari nell'ambito della cosiddetta operazione Strade Sicure, afferma il prefetto Adriana Cogode, presto per capire le tempistiche dell'eventuale invio di un contingente militare a Prato, considerando anche che l'innalzamento del livello di attenzione antiterroristica dopo il divampare del conflitto in Israele potrebbe spingere il Viminale a potenziare la vigilanza sulle grandi città dove hanno sede sinagoghe e musei di richiamo internazionale come la vicina Firenze. Da parte sua il sindaco Matteo Biffoni ribadisce la posizione dell'amministrazione comunale sul tema. Preferiamo certo che arrivino poliziotti, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza rispetto alla presenza dei militari per l'ovvio motivo che sono soggetti e qualifiche competenti per quello che sono i reati di ordine pubblico ma se dovesse tornare, perché vorrei ricordare noi ce lo tolse l'allora ministro dell'interno Salvini l'operazione Stato di Sicura a Prato, se appunto dovessero riassegnarci i militari noi, almeno io, riproporrei il sistema che avevamo individuato durante quel periodo prima appunto che ce li togliessero, cioè la presenza, lo stazionamento in luoghi sensibili appunto a partire dalle stazioni o comunque dove c'è bisogno, in caso di manifestazioni o cose del genere in modo che possano comunque rappresentare un punto di riferimento per le persone. Maxi operazione della Guardia di Finanza sul traffico internazionale di droga emesse 46 ordinanze di custodia cautelare e 12 fermi anche Prato interessata dalle indagini. La Guardia di Finanza di Milano ha condotto una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale 46 le ordinanze di custodia cautelare, 33 in carcere, 13 a domiciliari 12 fermi per indiziato di delitto eseguiti in varie province italiane tra le quali Prato e in Spagna. Le attività investigative hanno condotto all'individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di Asis e Mariana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno. Sono stati inoltre sequestrati 10 complessi aziendali, 52 immobili, beni mobili e disponibilità finanziarie per 9 milioni di euro ritenuti di provenienza illecita. L'organizzazione criminale sarebbe composta da un gruppo di italiani e spagnoli coadiuvati da soggetti di etnia albanese e cinese Per saldare gli acquisti delle partite di droga, i membri del sodalizio si avvalevano di servizi bancari abusivi gestiti da cinesi che fungevano da veri e propri centri di raccolta del denaro da trasferire in Spagna. Questi ultimi, nella quasi totalità titolari di esercizi commerciali, ricevevano contante da trasferire in Spagna in modo anonimo, veloce e non tracciabile dietro pagamento di una commissione variabile dall'1,5 al 2%. Il denaro consegnato dai trafficanti di droga negli esercizi commerciali cinesi nell'ordine delle decine di milioni di euro veniva subito dopo venduto a una diversa associazione criminale composta da imprenditori italiani operanti nel settore dell'acciaio e della plastica che frodavano l'IVA tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con bonifici all'estero. Cambiamo argomento. Polo, universitario pratese. La prossima settimana parte la sperimentazione dei frigoriferi intelligenti per i pranzi degli studenti. Una novità che l'Università di Firenze ha deciso di testare proprio al PIN e che la nostra emittente aveva anticipato in occasione dell'inaugurazione dello scorso anno accademico. Guardate. Partirà la prossima settimana la sperimentazione dei frigoriferi intelligenti per i pranzi degli studenti del PIN. La soluzione trovata dall'Arzu, l'azienda per il diritto allo studio della Toscana consentirà di aggirare l'assenza di una mensa universitaria a Prato e al contempo di testare una modalità a 2.0 di pranzo. A gestire i frigoriferi che saranno dei food locker sarà la stessa azienda che cucinerà i pasti, la Cheerfood. Gli studenti prenoteranno e pagheranno i piatti tramite un'app e li troveranno direttamente nel box loro dedicato a cui accederanno col PIN che sarà loro inviato al momento del pagamento. Quello noi siamo orgogliosissimi perché prima di tutto l'Università di Firenze che ha voluto fare una sperimentazione ha scelto proprio Prato per fare questa sperimentazione e questo dimostra come ci tengono in grande considerazione anche a livello di Ateneo. Noi siamo stati contenti di poter dare il nostro contributo perché abbiamo dei numeri più contenuti, cominceremo con il poco cioè con pochi pasti distribuiti, però l'idea è quella che se questo sistema funziona possa essere esteso anche a numeri molto più grandi. Sono pasti che a chi li ha provati dice che sono molto buoni, ottimi perché hanno mille garanzie sia dal punto di vista della qualità del cibo sia dal punto di vista di tutte queste necessità che i giovani hanno ci sono ragazzi vegani, ci sono ragazzi con delle intolleranze alimentari insomma è un modo anche di venire incontro alle esigenze degli studenti per dare il maggior servizio possibile. Al momento sono stati installati 42 food locker refrigerati al piano terra del polo universitario. Nella sala lettura al piano superiore l'Università ha predisposto uno spazio per il consumo dei pasti dove sono stati installati anche due microonde. Una possibilità in più per le oltre 1700 matricole del PIN che attualmente possono pranzare a prezzi calmerati solo al caffè Buonamici di Piazza del Comune con cui l'azienda del diritto allo studio ha stipulato una convenzione. Il deputato del PD Marco Furfaro commenta ai nostri microfoni il boom di tesserati in città di Fratelli d'Italia e dichiara il PD non si sente minacciato semmai si tratta di una minaccia per questa comunità che vogliamo proteggere. Non sono una minaccia per il PD 1600 iscritti a livello provinciale di Fratelli d'Italia parola del deputato Marco Furfaro Il dato dei tesserati azzurri è ancora ufficioso e lo sarà fino a questo venerdì alla luce dell'ulteriore proroga che a livello nazionale è stato dato alle province per fare l'inserimento sul portale online ma il numero è balzato subito all'occhio prima di tutto perché stacca quelle 400 tessere che il partito al governo aveva in città fino al 2022 e poi perché si avvicina ai tesserati del PD finora impareggiati pari a 1800 Credo che Fratelli d'Italia sia un partito di governo che sicuramente è in salute dopodiché credo che la nostra comunità non solo non abbia niente da invidiare ma al momento come partecipazione fisica non solo virtuale sia ancora una comunità molto presente che è capillarmente attiva in tutti i circoli, quartieri della città e credo che il PD non avrà da questo punto di vista problemi ancora a primeggiare sia dal punto di vista quantitativo del numero e delle tessere sia qualitativo dalla partecipazione delle persone Il PD non si sente minacciato? No, assolutamente no, non ci sentiamo minacciati semmai sentiamo una minaccia per questa comunità che vogliamo difendere e proteggere Difendere da cosa? Vogliamo difenderla a un governo che toglie i fondi che scarica tutti i propri problemi sui comuni, sugli enti locali è un governo che aveva promesso di tagliare le accise e non lo ha fatto è un governo, anche i propri rappresentanti che evocano spesso il problema della sicurezza a Prato bene, lo vogliamo fare anche noi però è un problema che deve risolvere il ministro dell'interno e non si invoca un maggior numero dell'esercito si telefona al Viminale e si chiedono maggiori forze dell'ordine per garantire una maggiore sicurezza a Prato Al via la terza fase del cammino sinodale diocesano con un incontro tra i referenti delle parrocchie e delle associazioni che si sono confrontati sui temi della ministerialità comune e del ruolo delle donne nella Chiesa Si è aperta la terza fase del cammino sinodale diocesano quella sapienziale con un incontro tra i referenti delle parrocchie e di altre realtà della diocesi alla Chiesa dell'Ascensione Alpino un percorso lungo e complesso quello del cammino sinodale che a Prato ha visto sinora una grande partecipazione Dopo i due anni dell'ascolto quest'anno facciamo l'anno del discernimento sapienziale che si concluderà con un testo che dovremo inviare a Roma nell'aprile del 2024 Un percorso così lungo che riguarda la Chiesa nella sua interezza non è semplice da portare avanti ma il Vescovo Giovanni Nerbini ha ben chiara la direzione da seguire per percorrere un cammino sinodale fruttuoso Ho cercato di mettere in guardia contro il virus della stanchezza a volte quando i cammini sono lunghi ecco si perde un po' dell'entusiasmo iniziale e quindi bisogna riscoprire nell'ambito della fede questa fiducia che c'è il Signore che nello Spirito Santo guida la Chiesa e noi ci vogliamo fare strumenti di questo spirito e quindi ecco metterci in ascolto e ora cominciare a esprimere anche delle opinioni non solo più ascoltare ma esprimere delle opinioni per vedere di individuare ecco il percorso da compiere come comunità parrocchiale e poi comunità diocesana I partecipanti all'incontro divisi in gruppi hanno riflettuto su due temi in particolare il riconoscimento e promozione della ministerialità comune e la valorizzazione del ruolo femminile nella Chiesa è venuto fuori che è importante far sì che tutto passi molto attraverso l'esperienza anche un cammino formativo che debba essere soprattutto un cammino esperienziale da fare con altri fratelli, con altre persone in una dimensione comunitaria e poi ecco si tratta di percepire anche la presenza della donna nella Chiesa come all'interno appunto di una visione ministeriale recuperare la femminilità come lo specifico che ogni donna può dare all'interno della Chiesa e non fare in modo che questo specifico sia riconosciuto solo in certi servizi ma anche nel modo di essere donna e madre all'interno della Chiesa La generosità dei pratesi ancora una volta non è venuta a meno ottimi risultati per la raccolta alimentare a favore dell'emporio della solidarietà che si è svolta venerdì e sabato scorsi in alcuni supermercati del territorio in totale sono stati riposti nel magazzino di via del seminario 115 quintali di prodotti per un totale di 1446 scatole 190 in più rispetto a quelle raccolte lo scorso maggio all'iniziativa hanno partecipato 250 volontari impegnati nella distribuzione di volantini e sacchetti e poi nella preparazione delle scatole e diverse associazioni del territorio in media sono 1700 le famiglie seguite e sostenute dal supermercato solidale di via del seminario 200 circa le tessere neonato per aiutare le mamme a reperire prodotti per l'infanzia il metastasio presenta il teatro e la città il programma di attività collaterali alla nuova stagione di prosa che si aprirà questo giovedì il teatro metastasio ha presentato all'interno del ridotto appena restaurato il teatro e la città nuovi progetti collaterali alla stagione 2023-2024 che coinvolgeranno la comunità dei cittadini con laboratori, dibattiti e approfondimenti su temi sociali, culturali e politici si tratta di tre diversi progetti, Metaforma School of Met e Da Vivi il miracolo della finitezza che offrono la possibilità di partecipare a percorsi di formazione teatrale che mirano lo sviluppo delle capacità relazionali tra le persone il teatro e la città è un nuovo ambito di attività che mira a potenziare la funzione del teatro metastasio come ente pubblico che cosa vuol dire? Che tutti i nostri spettatori sono anche cittadini ma non tutti i cittadini sono spettatori quindi riputiamo che sia un compito di un ente pubblico lavorare anche per quelle persone che magari non vengono a teatro a vedere gli spettacoli quindi quest'anno abbiamo attivato tutta una serie di progetti funzionali a una autoformazione, a una crescita di coscienza a uno sviluppo del senso civico e del senso culturale dei cittadini Nel caso di Metaforma si tratta di una serie di laboratori rivolti ai giovani ma non solo come il laboratorio teatrale per nonni e nipoti che frequentano la scuola primaria o quello sulla formazione propedeutica teatrale rivolta alle nuove generazioni School of Met, giunto alla terza edizione, prevede tre assemblee dal vivo per dare voce alle nuove generazioni su varie questioni come il tema del lavoro Da Vivi il miracolo della finitezza è il nuovo spaccio di dialogo e creazione sul tema della morte che vedrà una serie di incontri a partire dal 27 ottobre al ridotto del Metastasio Il teatro Metastasio consolida questa sua attitudine maturata ormai negli ultimi anni di pensare, progettare e poi realizzare progetti con la città, per la città attorno a temi che poi caratterizzano la sua attività di teatro e di spettacolo da vivo cioè il cuore dell'attività Il teatro della città è la presentazione del polo del fabbricone da un lato del progetto di regenerazione urbana ma è anche quello che riguarda quello di cui abbiamo parlato stamattina il progetto sul fine vita, la nuova edizione di School of Met è tutto quello che ormai da tempo la fondazione riesce a mettere in campo in una relazione sempre più proficua con il territorio di riferimento Era presente all'iniziativa Diana Toccafondi della fondazione Cassa di Risparmio di Prato che sostiene il progetto Da Vivi il miracolo della finitezza di Elisa Siriani e promuove il nuovo dipartimento Metaforma inserito all'interno del progetto Prato Comunità Educante Nonno, ci racconti Prato? è questo il titolo del primo libro di Urano Corsi, Pratese Doc che ha voluto scrivere un volume che fosse una vera e propria dichiarazione d'amore per la sua città Corsi racconta aneddoti, storie, personaggi e tradizioni di Prato ieri sera la presentazione in Palazzo Comunale il ricavato delle vendite andrà in beneficenza Urano Corsi, a 74 anni l'opera prima un volume che racconta molto della nostra città dall'occhio di chi questa città la conosce molto bene che cosa si trova in questo volume? Io ho grande rispetto per chi insegna le bellezze di Prato io mi sono focalizzato più sui personaggi tanti aneddoti della nostra Prato come si viveva già dal dopoguerra in poi fino pian pianino su su verso i giorni nostri Il titolo è Nonno ci racconti Prato quindi diciamo così è un insegnamento che il nonno, in questo caso il nonno Urano Corsi fa le proprie niposine Sì, è un po' l'alibi ma anche la molla che ha fatto scattare la voglia di raccogliere questi racconti grazie alle mie nipotine Dalia e Petra che due, quattro anni ovviamente per ora non sanno leggere ma spero che su queste pagine poi riescano a leggere e a imparare a leggere ma anche a amare Prato come l'amo io Non vuole essere un'operazione nostalgia ma è un vero e proprio atto d'amore questo per la propria città Sì, non è nostalgia perché io credo che dal passato si debba solo imparare le cose buone per vivere bene il presente e sognare, ma forse nemmeno sognare qualcosa di più di vivere meglio il futuro quindi nessuna nostalgia era una Prato diversa alcuni dicono con ritmi più compassati ma a vedere i nostri nonni, i babbi che lavoravano 12 ore credo che i ritmi compassati fossero soltanto nei giovani Ed eccoci arrivati alla nostra agenda con tutti gli appuntamenti in programma Domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 11 al Teatro Magnolfi di Via Gobetti Il silenzio della parola e l'eloquenza del corpo giornata di studi dedicata all'arte di Marcel Marceau contro la guerra Alle 17 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Lazzerini presentazione di Angeli Inquieti romanzo d'esordio di Fabiola Borrelli Alle ore 19 e 30 presso la Villa del Palco presentazione del libro Ti racconto l'aldilà di Angela Ales Bello ed Anna Maria Sciacca dialogo a ingresso libero tra Angela Ales Bello e padre Guidalberto Bormolini dei ricostruttori della preghiera Alle ore 19 presso il Cinema Terminale proiezione del film Doppio passo di Lorenzo Borghini Infine alle ore 21 e 15 presso la Biblioteca Bartolomeo della Fonte di Montemurlo presentazione del libro Luna di Notte di Laura Nardi Termina qui questa edizione del nostro Tg vi lascio al meteo come sempre a cura del Consorzio Lamma a seguire chiedilo al sindaco in compagnia del primo cittadino Matteo Biffoni e alle 21 e 20 la telecronaca della partita di calcio Prato-San Maurese Grazie per averci seguito Il Tg torna domani alle 13.45 Una buona serata e a domani Arrivederci Stop! Stop! purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti prato all'armi una sicurezza da oscar era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi comprato poi non è un caso che siano professionisti della sicurezza Tuscania offre soluzioni per aziende e privati pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale Tuscania, la qualità del pulito una buona serata a tutti, l'autunno inizia a fare sul serio ecco lo vediamo dalla situazione sinottica prevista per le ore centrali domani una intensa depressione sull'Atlantico tenderà ad avvicinarsi al Mediterraneo lo sguardo alla previsione per la giornata di domani mattinata già qualche debole pioggia su settori meridionali e occidentali soffriranno venti di scirocco, saranno in rinforzo nel corso della giornata nel pomeriggio e in serata piogge che interesseranno soprattutto le zone centro-settentronali risultando più intense in serata sul nord-ovest le temperature minime lieve aumento, mentre le massime lieve diminuzione uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì condizioni di maltempo sulle zone settentronali in particolare contemporanei anche localmente di forte intensità tra la notte e la mattina sotto la spinta di venti da sud fino a forti mare tramosso e molto mosso tra il pomeriggio e la sera piogge che interesseranno ancora i settori settentronali con temperature massime tenderanno nuovamente a risalire fino a 23-25 gradi sulle zone meridionali bene è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e una buona serata